Confermiamo con assoluta nettezza che il farmaco utilizzato per i vaccini e che è il farmaco sospettato delle morti nel Lazio non è in distribuzione e non è utilizzato. Già da giovedì scorso nel tutto il Lazio quel farmaco non è utilizzato, quindi non è che non sono utilizzati dei lotti, non è proprio utilizzato quel tipo di farmaco, quindi chi si va a vaccinare verrà vaccinato con altri medicinali e quindi in questo c'è il salto di qualità della sicurezza che noi vogliamo ribadire. Perché, ripeto, le eventuali morti provocate da quel farmaco, quel farmaco nel Lazio non è utilizzato e quindi è un messaggio di serenità che ci sentiamo di poter lanciare. Poi ci saranno le autopsie, i referti, vedremo, ma quelle sono tutte chiacchiere. Adesso la sostanza è che chi si rega a fare il vaccino ha la certezza che nella nostra regione quel farmaco non è utilizzato. Grazie a tutti.